Io vedi invece da buon presentatore mi sono portato comunque sempre una cartellina e poi ti ricordi le robe, sono gli ecchi duchi del mestiere Sei tu l'ospite, sei tu che devi fare No, però così comincio anche a raccontare il mio background È giusto, io racconto solo come ci siamo conosciuti così velocemente, così poi partiamo da lì Allora, oggi ho mandato un messaggio a un mio caro amico con cui condividevamo uno studio in San Salvario, in Via Saluzzo e gli ho scritto, Cato, ciao, mi ricordi gentilmente? Lui è un nostro amico musicista, un pazzo, un psicopatico, un ricordante, lui ricorda qualsiasi cosa E io ho scritto, mi ricordi quando Mao è arrivato in studio da noi e da lì in poi sostanzialmente siamo diventati conviventi per qualche anno E lui mi ha scritto, non mi ha scritto l'anno, mi ha scritto il mese Io mi aspettavo anche il giorno e l'ora, però mi ha scritto gennaio 2002 Quindi è vero che c'è il 25ennale del tuo disco, ma c'è anche il 20ennale C'è il 20ennale della nostra amicina Quando l'ho scritto gennaio 2002, quindi sono 20 anni che ci conosciamo Possiamo anche sparare due cazzate Questo disco qua, tu lo hai registrato quindi 5 anni prima che ci conoscessimo Puoi cominciare a raccontarci qualcosa e poi ascolteremo anche qualcosa Mi piace questo flash forward che tu mi aveva Allora facciamo un passo avanti Nel 2002, dopo 5 anni che ho registrato questo disco Che era un disco che aveva delle belle aspettative Perché siamo andati a Cax a Remo con questo disco C'era tutta una tensione Comunque adesso me la faccio conto breve Nel 2002 ero a un certo punto della vita in cui avevo praticamente uno studio Insomma, quindi dei macchinari, delle cose Pensavo di riportarlo a Torino perché nel frattempo era andato a abitare sia a Milano che a Roma Pensavo di riportarlo, insomma, a Torino di fare uno studio Pensavo di andare ai docks Dopodiché avevo evidentemente con grande capacità affaristica Mi era sembrato di aver capito che mi dessero un posto con le finestre E in realtà mi diedero un posto perché erano di sottoterra questi qua di docks E quindi io diciamo, questa cosa non la potevo sopportare E ho chiesto, insomma, aiuto a un amico Ho detto a Cato, senti io ho la roba, non so proprio dove metterla E lui mi disse, guarda io ho lo studio, vieni pure a posarla lì Puoi lasciarla una settimana, due, tre Insomma, è così poi ci sono stato praticamente, credo, cinque anni di studio come senso Un po' di anni, sì, eravamo poi tutti insieme Anche forse sette perché, no, cinque anni Ti sei costruito il soppalco dove dormivi e quindi abbiamo convissuto Ma perché tu, quando sei arrivato nel 2002 in studio da noi Tu arrivavi da Milano, abitavi a Milano? Sì, a quel punto, va bene, facendo un flash photo Dopo questo disco, diciamo, Casa, che uscì nel 97 Io già all'epoca lavoravo in televisione, avevo cominciato a fare MTV E facevo un programma che si chiamava Kitchen Che era un programma di cucina Dove comunque un ospite, intervistavamo un ospite Che veniva lì a proporre la sua cucina Un piatto, non è che ci fossero intenzioni da gourmet ancora all'epoca Sì, me lo ricordo Più che altro ci sembrava una cosa abbastanza divertente Perché i programmi da cucina erano proprio tipicamente quelli sfigati Da reti, diciamo, private Programmi con televendite e cose del genere E quindi pensare di farlo ad MTV ci sembrava un giusto contrasto E devo dire che la formula funzionava anche perché Io, diciamo, accompagnavo quello che era il presentatore Che era Andrea Pezzi Che, insomma, era un personaggio in grandissima auge E quindi porti, diciamo, di tutte queste cose qua Nel senso, abbiamo una serie di motivi Poi mi trasferisi sia a Milano che poi a Roma Dove, invece, insomma, tra il 99 e il 2000 L'ultimo programma con MTV che si chiamava Roma Live Che era un programma che facevamo in diretta Una specie di, come posso dire Sì, un talk show che c'era tutte le sere Finita questa esperienza, diciamo, del talk show Mi era scoppiata un po' la testa Quindi decisi di tornare a Torino E stavo producendo un po' di gruppi Per alcuni mesi, insomma, ho vissuto al Blu Musica Che è una sala prova che magari Per chi è appassionato di musica a Torino conosce Io mi ero praticamente piazzato di colletto Anche nella città di collo che c'era questa fase Avevi scuotato un pezzo Avevo scuotato Blu Musica Dopodiché ero onerosa come situazione Anche se sembrava una cosa scuotere Quindi, insomma, avevo cercato questa soluzione di talk Che, insomma, è andata un po' in malora E poi invece ho avuto, insomma, per caso la fortuna di trovare questo studio Avevate una vetrina Era una vecchia videoteca Nell'ala dove dormivi tu c'erano i film porno Infatti c'era un'energia bellissima Devo dire, era un'energia bellissima E sono stati anni bellissimi Nel senso che poi c'erano due situazioni Non era vero? No, era vero, c'erano i film porno dove c'erano... Era proprio quella, insomma Insomma, io lì ho tirato poi su, insomma, il mio studio E poi l'ho spostato qualche isolato più in line, in realtà Perché comunque... Dove sei tuttora? Dove sono tuttora? Quindi sei in trasferta in San Donato Però tu sei di Barriere, originario di Barriera Molto orgoglioso sempre delle tue origini Poi li glotta, come nel giro tutto il mondo Ma se ti guarda di Torino, li conosco, li posso spazzolare Sì, però sì, da Barriera e poi lo studio Un pezzo di cuore ormai è in San Salvari, insomma Ma sì, diciamo che se io potessi mi trasferire lì direttamente Perché comunque è più una situazione confortevole Però, insomma, le vicissitudini sono lunghe, è chiaro Quindi mi trovo comunque sempre in Barriera Che è un posto un po' duro, diciamo Un po' spigoloso, ecco Ancora oggi, anche se non lo era Come quando io lo pischello Se vogliamo parlare sul flashback Ma come si è arrivato? Ah no, io quelli che conosco che sono originari di Barriera Sono su, sono su No, no, sono innamoratissimi Diciamo, non puoi toccarli Barriera Perché ne parlano come di un luogo, insomma, di formazione Fondamentale nella loro, nel loro percorso Sì, ma io non è che voglia dire qualcosa Spesso questi, sovente, coloro i quali fanno questi discorsi Non abitano più in Barriera Cioè ci sono stati ma non ci abitano più È bello Ma è bello, come gli italiani che stanno all'estero Dicendo, ma quanto è bella l'interno Quanto è bella, quanto è manca Intanto quello stanno Intanto stanno lì Houston, hai capito? Quindi, insomma, c'è un po' quella prospettiva lì Che quando una cosa poi non ce l'hai ti manca Quindi sembra anche un po' più bella Oh, non è che sto dicendo male di Barriera Ci mancherebbe Dico semplicemente che è un quartiere che ha altre dinamiche E nel tempo, comunque, ha cambiato i soggetti Ma le dinamiche sono sempre quelle Non è che ci sia niente di nuovo Quindi, insomma, sì Partiamo proprio da Barriera No, 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 adesso io pian piano Sarei, come dire L'obiettivo è quello di arrivare al Scusa, al 97 O comunque poi muoverci in quei dintorni Raccontando Perché tu con quell'album lì Se non ricordo male Andasti a Sanremo, giusto? Forse c'era ancora Esistevano ancora le nuove proposte Qualcosa del genere E hai fatto... Un anno un po', diciamo Come dire Faccio un po' bastardo Nel senso che Era il primo anno Mi sa che lo conduceva Fabio Fazio E c'era già Ci aveva già trovato la nuova Ci aveva già un rito a Ber Fabio Fazio Quello che aveva invitato Gorbac Era lui che aveva invitato Gorbac Infatti io già all'epoca Io dico Cioè la sensazione Anche lì Poi chiaramente Essendo arrivato Fu questa edizione di Sanremo Che si svolse Mi sembra ad ottobre Una cosa del genere Cioè in autunno Che era dedicata ai giovani In quell'edizione lì C'eravamo, non so Io, Gazzè C'eramo il Teni Insomma ce n'erano diversi La nuova ondata Della new wave Della new wave italiana Però diciamo Fummo praticamente tutti trombati quasi Perché poi ci fu un mezzo scandalo Con la squadra di Sanremo Insomma una cosa del genere Però quello fu diciamo Un evento Discriminante Proprio quanto riguarda Cioè la carriera Se non altro di Come dire Del gruppo Insomma di Mau La rivoluzione Ma 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 la rivoluzione Perché insomma Quello è stato un po' Una cosa Come si è andata di Sanremo Tutta una serie di Borsi si sono chiuse Certo E quindi Io Come dire Siccome Il format Vinile-vinelli La volta scorsa Avevamo il vinile Fisico qua Dei Tolkien Eds Di Remaining Light Che era il disco Che ci ha raccontato Giorgio Invece Di casa Non esiste La coppia fisica In vinile E quindi Ieri ho chiamato Mau E gli ho detto Senti Visto che non esiste La coppia fisica in vinile Non è che ci fai due pezzi Dal vivo Anche se poi In realtà È una chiacchierata Non esiste ancora Diciamo la coppia Non esiste Potrebbe esistere C'è odore Di ristampa Adesso magari Poi le parliamo bene Con lei A quel punto Rifaremo Un'altra No perché ormai Si usa per Di fare la ristampa E quindi magari Ce la faccio anche Con il mio Questa è una cosa Quello lo aspettiamo Con ansia Però nel frattempo Nel frattempo Visto che non abbiamo La coppia fisica Abbiamo direttamente Lui live Che ci farà Decide lui Non abbiamo deciso Nulla Ma mi immagino Che è Allora Mi piace E allora Con cosa partirei Diciamo con quella Che se riusciamo A far sentire Ma anche se non Si sente Va bene Schiacciagli un po' Solo basta Schiacci il tasto Questa qui Era la canzone Che è Con la quale Siamo andati A questo Sanremo Giovani Di cui Prima vi raccontavo E Piccola particolarità Noi Diciamo davvero Gruppo Rock Di solito si va lì Il batterista Si mette le cuffie Perché c'è un click Che ti dice A che tempo Andare Noi eravamo Molto Rock Anche il disco L'abbiamo fatto Senza questo click Arriviamo lì Sanremo E lo facciamo Anche lì Chiaramente Senza click E chiaramente Vista la situazione Il batterista Si fa prendere Dall'emozione E se poi Andate a sentirla Eventualmente Su Youtube La velocità La quale facciamo Praticamente Questo pezzo Sembrava un pezzo Scala Aveva fatto Una velocità pazzesca Però il pezzo Era questo E mi sembrava Comunque una bella maniera Di entrare Come dire Nel gode di Sanremo Ma non fu preso Ma la faccio sentire Lo stesso Fa così Io e te Siamo qui Rilassati Dentro un bar La cassiera Che Guarda Stotto Alle sei Siamo via Con la macchina Che va Per miracolo Ma non importa Non smettiamo Se ci fa Sormire E' romantico Perché Mi diverto Insieme a te Perché no Se ci va Questo gioco E' romantico Perché Ti diverti Insieme a me Perché no Se ci va Questo gioco E' romantico E così Dopo un po' Ci fermiamo In autogrid Tu mi chiedi Che ora è E' un altro giorno Non smettiamo Non smettiamo Se ci fa Sormire E' romantico Perché Mi diverto Insieme a te Perché no Se ci va Questo gioco E' romantico Perché Ti diverti Insieme a me Perché no Se ci va Questo gioco Ah 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 Yeah 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 Grazie 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 Che poi diciamo Questa canzone C'è tutta una storia Che Ci sono E' una canzone Che in realtà Era nata Con un'altra Melodia In pratica Questo è vero Giusto che siamo A livello Stasera Vorrei Svelare un po' Di segrete Un po' Di retroscena Perché sono Importante Molti sti anni Dirle almeno Com'è andata Questa è una canzone Che era nata In un altro modo Allora All'epoca Diciamo che Stiamo parlando Del 97 Quindi Noi eravamo Quell'anno Era uscito Ok computer Quindi c'era Partita sta cosa Di radio E dopo Poi Che vi dico A fare Blur Oasis Nel 97 Sono andato a guardare Perché ho fatto Finta di preparare Ma in realtà O lui E' uscito Il primo album Dei Subsonica Può essere Quella è ancora Un'altra storia Quindi da lì Un altro pezzo Di Torino Ma è uscito Il primo album Di Daft Punk Comunque Sì è vero E noi Amo anche molti Fissa Sono innamoratissimo Di quel disco Era un anno Particolare Insomma Noi volevamo Fare delle cose Un po' Alla Alla Oasis Alla Blur Fare delle cose Un po' inglesi Questa canzone qua Era nata con un'altra Ci si chiamava Una roba tipo Scusate Sono un po' Raffreddissimo Era una roba tipo È proprio romana È una roba tipo Mi chiedo sempre Quando io e te C'era Fratelli Gallagher C'era proprio un'altra melodia Che ne so Ritornello era un'altra Tana Me la ricordo Tutta Comunque E poi Siccome Registravamo sempre Queste cose In sala prove E spesso le facevamo Anche magari Soltanto le basi Mi ricordo Che insomma Sto mio amico Mi disse Sto mio amico Che era Bege Che era uno di quelli Che collaborava Anche se non è citato Mi diceva Troviamo una roba più La base mi piace Insomma io praticamente Poi sulla base Di sta canzone Che avevo registrato Ho cominciato a cantare Quest'altra melodia Ed è diventata Questo romantico Però in realtà Sarebbero due canzoni Il tentativo era Di mettere un ritornello Più all'italiano Cioè per farti capire Con una melodia Più aperta Non lo so Guarda Il discorso era Però il pezzo Ancora oggi Molto molto Eravamo molto caldi All'epoca Nel senso che Eravamo molto disponibili A cambiare le cose Velocemente Tante Questa canzone qua L'avevamo praticamente Pre-prodotta Quindi avevamo Eravamo già andati in studio A fare la reproduzione Avevo soltanto la base Di questa roba qui E ce la siamo stravolta Comunque in corso d'opera Quindi Ma come si fa spesso In queste Come si fa spesso Quando però Le situazioni Diciamo Sono a temperatura E devo dire Che quell'anno Insomma Era una abbastanza Temperatura Dici Come mai Perché Per la terminale Di subsonica Ah no Non lo so Io Io ti dico Casi a fagiolo Perché I subsonica Come dire Sono Il produttore Max Casaccio Fondatore Max Casaccio Non so se tutti lo sanno No no Sì La mente Lui Esce dagli Africa Unite Perché Basta Non aveva più voglia Di quell'esperienza E Fonda E Fonda E Subsonica Prendendo questi due ragazzini Giovani talentuosi Sì Siamo Le buste E Fonda E Subsonica Sì In grosso modo è così Però diciamo che Io in quegli anni lì Ero Diciamo Un fedele Di Casa Sonica Che era la sua Su studio Lo studio di Max E anzi A dirla tutta Maule e Revoluzione Sono Diciamo Una cosa Un prodotto pensato Da Casacci Con me Nel senso che Maule e Revoluzione Come gruppo Io avevo altri Suonavo con altri Publicisti Lo sai Tu Robbo Avevo delle formazioni Con cui facevo Diciamo le mie cose Soliste Quando diciamo A un certo punto Incontro Casacci Che all'epoca Era già appunto Un produttore Suonava con gli Africa Unite Faceva anche Produttore per altri dischi Basti citare Che non so E Loschi Dezzi Ma gli stessi fratelli di Soledad Antaro a Battorino Passava da lì Passava da lì Io all'epoca Diciamo da ragazzino Ero Andavo forte Perché mi chiamavano Anche in studio A fare i cori Perché ero abbastanza Ero bravo Insomma anche a fare Le seconde voci Abbastanza al volo Anche se Cantavo in un coro gospel Insomma Facevo anche il corista Ero bravo a armonizzare E quindi Insomma Andavo spesso in studio A fare Diciamo questi turni All'epoca non c'era La tuttavia Che ti mettevi Di cantarla giusta Se non era un casino Ci mettevi Tanto tempo E io quindi Cominciando a frequentare Lo studio in questo modo E poi cominciando A fare anche concerti Da sole Insomma A un certo punto Avevo conosciuto Un po' quelli Che erano Quelli dell'ambiente musicale Qua a Torino Perché Erano poi All'epoca Insomma nomi che poi Che ne sono casacci Comunque conosceva Carlo Rossi Ha collaborato con loro Con i Monium E Carlo Rossi Un prodotto Buonanima Che però Ha fatto Dei lavori Prima che mancasse Era l'unico studio Di serie A Che c'era qua A Torino Sostanzialmente La Liga Bue Giovanotti Giusto Caparezza Insomma Infatti Non ho citato Questi due nomi a caso Perché diciamo Il disco che abbiamo fatto Con Mauro La Rivoluzione Che è il disco Insomma precedente Questo qua A casa Che uscì nel 95 È un disco che in realtà Come ho detto Abbiamo fatto io a casacci Nel senso che l'idea di Mauro La Rivoluzione Nacque proprio da Fatti di Dio Che adesso Tu che scrivi le canzoni Ti faccio il gruppo E fai questa roba qua Io questo non lo sapevo Tant'è che Metà di Mauro La Rivoluzione Ha fatto il gruppo Sul su di tenso Perché in pratica Sia Jep Che era il batterista Che Matteo Salvatore Che era il chitarrista Erano in realtà Due membri di una band Anche abbastanza affermata E devo dire Che poi negli anni Almeno Marco Pacino Non ancora mi saluta Siamo rimasti in buoni rapporti Però praticamente Come dire Gli ho portato via Chitarrista e batterista E non molto solo Cioè così Quindi sono venuti a suonare con me Il bassista Era già È l'unico Che mi ha abbonato Che suonava con me Che era il mio vicino di casa Una comedina Ma quella roba dire Decideva Casacci Era lui il produttore E io diciamo Ero il songwriter Quella era un po' la storia Poi Ha formato il gruppo Ha messo su la faccenda Hanno registrato anche Insomma Le parti le hanno registrate I musicisti Che ci sono scritti Su Mauro La traduzione Quindi erano anche Diciamo le sessione Però sono stati scelti Proprio perché suonavano In quel modo Sì 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 Per il loro Per il loro Questo è stato il primo disco Con Casacci Dove se Insomma Mi capita di ascoltarlo Sale Il mio primo disco Come tipo di sonorità È molto diverso Da casa È molto più elettronico Ed è molto simile A quello che poi Sarà il suono Che è venuto fuori Con il primo disco Il produttore Era lo stesso Certo Aveva quell'attitudine Già Aveva quell'attitudine In embrione Quando abbiamo cominciato La preproduzione Diciamo di questo Secondo capitolo Perché all'epoca Eravamo abbastanza Aranciati Come Casacci Teoricamente Cioè in pratica Era ancora Dentro la produzione Tant'è che ci sono Poi dei pezzi Nel senso che Il singolo che uscì Di Chinese Takeaway Conteneva altri due brani Uno sono Che si chiama Aranciate L'altro era Terno all'otto Che era una sigla Di un programma radiofonico Che invece Quelli sono ancora registrati Nello studio di Casacci Quelli sono fatti ancora Con Casacci Per dire che La preproduzione Di questo disco Stavamo cominciando A farla con Casacci Se non che Diciamo La band Non sopportava Molto Casacci Le storie Queste sono storie Ma non era solo quello Il discorso Che il manager Che è quello che Avrebbe dovuto Ficca risolto Comunque fare da tramite Che era poi La mescola Siccome Casacci A quel punto L'aveva messo Sul suo gruppo E quindi Sarebbe stato impegnato Molto sul suo gruppo Era assorbito Da questo Non era molto Diciamo Dell'idea Di farglielo fare a Casacci E quindi soffiava sul vento Di dire No ma non fateglielo fare Ok Cevai tutti contro Nel frattempo Sembrava anche E avevano fatto anche Degli incontri Che Carlo Rossi Invece Era Carlo Rossi Voleva produrre Questo disco Casa Quando però Poi Siccome noi Non è che sedessimo Al tavolo Diciamo dei bottoni Quanto vuoi Quanto vuoi Alla fine Il nostro manager Non trovava un accordo Economico Con Carlo Rossi E quindi la cosa Andò all'italiana In Cacciara Nel senso che A quel punto Siccome Evidentemente Era assumato Con Casacci La cosa non andava Scusa La pillola per la pressione Ah no no Ce l'ho sempre Anche l'altra volta Alle 20 Devo prenderla Perché se no Mi viene un infarto Va bene Andiamo avanti L'acqua ce l'abbiamo 52 E quindi Andò in Cacciara E come andò a finire Con la produzione Del disco Alla fine Il disco Lo producemo noi Cioè Producemo noi artisticamente Non è che abbiamo messo i soldi Andiamo all'esagono Di Rubiera Senza un produttore C'era talmente Una confusione Su questo aspetto qua Dove nessuno Si faceva carico Di dire Ma chi la fa la produzione Certo A un certo punto Passò anche Riccardo Sinigaglia Perché all'epoca Era l'A&R Della Virgin Significa diciamo Quello che Doveva Cercare Le nuove Lui da Girretti Romancino Roma Di famiglia Perché di famiglia Il suo padre Era un discografico Ok E quindi Lui già da ragazzino Faceva queste cose qua Poi ha detto Bene Lui Già All'epoca Con il disco Di energy Insomma E poi niente Quindi a un certo punto Venne anche su All'esagono Riccardo Sinigaglia Perché si parlava Dove si pure produrlo Lui Ma alla fine Quel disco Non è il prodotto Infatti Diciamo È un suono molto primitivo Ecco Singoli Tra i più ascoltati Più popolari C'era Quelli che ben pensano Di Frank K. Energy Che se non ricordo male Era prodotto da O comunque c'era Riccardo Sinigaglia E Ice One E Ice One Quindi in qualche maniera Ricerchio Perché lui potrebbe Anche tutta la scena Comunque del record Sì 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 Anche romano Infatti Sì sì Era Quindi questa storia Non la sapevo Mi fa piacere Sentirla così fresca Quindi diciamo Siamo arrivati poi Di a registrare Questo disco Così E ve la siete Studiata Così un po' Vi è venuta Spontaneo Quel suono Non c'è stato Un produttore Abbiamo praticamente Semplicemente Suonato Le parti Che suonavamo In sala prove Cioè Quelle che poi Facciamo dal video Infatti è un disco Scarno Non c'è Di arranciamento Non c'è niente Praticamente Si sente un'influenza Sicuramente Del Britpop Di quel periodo Quello sì Cioè La cosa bella Potevamo permettercelo Almeno ci sembrava Potevamo permettercelo Perché comunque Arrivavamo Da una stagione Avevamo fatto Tipo cento date Sì certo In più Avevamo avuto La possibilità Ormai è sempre più rara Per quel disco Di passare Settimane In un casale In campagna Altre due settimane In montagna Cioè di poter quindi Lavorare con un gruppo Di persone Provarti le cose Come insomma Immaginare che si facesse E quello quindi L'abbiamo fatto Quindi quando siamo Andati in studio Sostanzialmente abbiamo Messo insieme Tutto quello che era venuto fuori Senza avere un arrangiatore Cioè non ci fu tutto il lavoro Che invece Per esempio Per il disco Primo Anche per il disco Dopo Che ho fatto Quello con Morgan Con Black Moquette Su Black Moquette Poi ho un ricordo Mio personale Che Ma senti Allora Invece ti volevo chiedere Visto che Nel sottotitolo Di tutto quello Che doveva essere Il contenuto Di questo incontro C'era anche un po' Il racconto di Non necessariamente Insomma andare a scavare Nella filologia Di quegli anni Però Un'idea di quello Che ti ricordi Della Torino Di quel periodo lì Di com'era Torino Insomma Se hai qualcosa Da Da raccontarci Sul La Torino Degli anni 90 Se avete anche voi Io Anche l'altra volta Ho chiesto Mi sarebbe piaciuto Che qualcuno Se avesse voglia Di dire Qualsiasi cosa Fare qualche domanda E siamo qua E anche Che ne so E anche Come oggi Che differenza Vedi fra La Torino Di 25 anni fa E quella di oggi Dal punto di vista Dal tuo punto di vista Vabbè esatto Cioè mettiamo sempre Comunque Come dire Sulla bilancia Il fatto che ho 25 anni in più Quindi questa Inevitabilmente Mi ha squillato La pillola La pressione Inevitabilmente Mi porta La pillola Completamente diversa Allora Vabbè Tanto per cominciare All'epoca Credo che in generale Comunque la città Tutti quanti Codessimo comunque Di una situazione Decisamente più Comunque Almeno leggiata Qui a Torino In più Si era creata Anche questa situazione Fortunata Per cui Esistevano comunque Sia dei luoghi Diciamo Di aggregazione Sia ormai Una serie di locali E quindi anche di Persone che Insomma Di musica Ne masticavano E soprattutto la facevano Anche in giro Per cui era diventato Un po' Un'oasi Cioè un po' Tutto quel giro Comunque dei Murazzi Effettivamente Devo dire che Era un po' Una situazione Che diciamo Nella mia Anche ingenuità Comunque di quegli anni Quando poi andavi Che ne so A Roma Piuttosto che a Milano Sembrava che tu Arrivassi Dalla per lì No non solo Cioè poi portavi Della gente Di Milano E di Roma Di Murazzi Perché si era creata Perché diciamo Comunque è super easy Anche qua C'era più Testificato Poi comunque Era una roba assurda Cioè Le ore Notturne Che comunque Forse Sicuramente adesso Ancora lo fanno Però Era una roba assurda Cioè lì si sentiva Dalle due in poi Cioè delle cose assurde Cioè tu davi Da Giancarlo Cioè noi finivamo Di registrare Cioè andavamo a cena Finivamo alle dieci e mezza Anzi forse Forse per i ricordi Che io Le due da Giancarlo E arrivavi E trovavi ancora Proprio i primissimi Cioè capito Noi finivamo di registrare Andavamo ancora a provare Le cose Ma alle due Due e mezza Ti facevi ancora Confluiva tutto il mondo Che arrivava da ovunque Confluiva lì dentro E poi E' una roba Partiva L'astronauta Sì con il fatto Che poi comunque Restava una città Comunque diciamo Molto a misura d'uomo Quindi era tutto Poi più facile Anche Insomma Incontri Creare delle situazioni Quindi All'epoca Tutto sommato Mi sembrava un luogo Abbastanza Privileggiato Anche nel panorama italiano Cosa che in questo È comunque Abbastanza Con una sua Peculiarità Stavo per dire Tolerante Forse Perché rispetto A magari Alle dinamiche Che ci sono adesso Mi sembra che ci sia Molta meno tolleranza Rispetto a Questa della tolleranza Ormai No ma la tolleranza No ma la tolleranza No ma la tolleranza Che magari ha abusato Proprio il fatto Che ora Ovunque Tu faccia qualcosa Devi preoccuparti Di centomila cose Dei decibel Di chi Di la gente Che può essere disturbata Il fringuello Che non midifica Perché sennò Poi Stressato Era un mondo Da pirati Era un po' più Era tutto molto più Cioè Si immagina La situazione di Giancarlo La situazione Poi il rischio Di fare i boom E di Ah il nostro tempo Esisteva meglio Però In realtà Era un po' più Sicuramente C'era un po' più Di vita Credo Poi non so Si poi Tecnicamente Cioè Adesso C'era un altro Potere d'acquisto Quindi comunque Ti facevi una serata Comunque Sprello un cazzo Non era Una roba Che Lui c'era Ogni settimana Poi C'era comunque Almeno La cosa che ricordo Che c'era un circuito Comunque Di locali Che ti permettevano Di fare spettacoli Di concerti Per cui Io Veramente Già a 19-20 anni Guadagnavo dei soldi Certo Cioè Era un problema Perché studiare Stai già lavorando Cioè È vero Era un po' questo qua Il viaggio Quindi credo che Da questo punto di vista Le cose siano Molto Molto diverse Poi Credo che la cosa Diciamo Se vogliamo rimanere Soltanto sull'aspetto Come dire Più discografico Cioè Soltanto Musicale All'epoca Diciamo Una volta Pubblicare Cioè Adesso pubblicare È un aspetto Cioè Marginale Cioè pubblicare Invece all'epoca Pubblicare era un po' Come dire Cioè Potevi registrarti il tuo demotei Potevi farti la tua cosa Però poi andare Pubblicare fisicamente Era un punto d'arrivo Era un punto d'arrivo E quindi Questo implicava Una serie almeno Però di passaggi Un po' più chiari Capito C'era un po' più di Da questo punto di vista Come ti posso dire Necessariamente Professionalità Cioè Un tipo di improvvisità Chiaro Oggi è un po' più improvvisata Forse Da questo punto di vista La situazione Eh sì 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 Ma quello perché La digitalizzazione Come dire Ha democratizzato Forse un po' troppo Tutto il processo Anche creativo Per cui è tutto Più Sapeva che cosa fare Insomma Adesso sono dinamiche Completamente Completamente diverse Comunque c'era Bene o male Il discorso che adesso È tutto quanto Molto Riferito alla quantità Di più che fai Alla quantità Cioè Completamente strapolato Da quello che è il contenuto Cioè non so come dirti Non sembra ormai Tutta una roba finta Basta che ci sono Tanti numeri sotto Sì 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 Alla lunga Questa roba Secondo me va a minare Un po' Tutto il meccanismo Infatti mi sembra Un po' in cortocircuito La situazione in generale Oggi Cioè non solo Dal punto di vista musicale Funziona più Adesso funziona più Il personaggio di per sé Non so Fammi dire Elodie Perché Per tutto Tutto un insieme di cose Perché fa l'attrice Perché fa I videoclip fighi Perché fa Le dirette Su Instagram Cioè per tutta una serie Di cose Più che per Il fatto che faccia La cantante Il fatto che faccia Delle canzoni Lei come chiunque È uno dei vari aspetti Cioè non viene Il personaggio Viene considerato Per tutta una serie Di questi Quello in realtà Nel music Come dire Nello show beats Come si dice È un aspetto Cioè Che c'è sempre stato Però Quella è la storia Sì 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 Quando parli di show beats Chiaro che poi Ci sono stati Magari dei momenti In cui Col fatto che ci fosse La discografia E che quindi Poi anche il gusto E Delle persone Del pubblico Fosse cresciuto Ci fossero creati Certi contesti Permetteva Diciamo A questo show beats Di essere un po' Più come Un circuito jazz Un circuito Cioè di appassionati Di un certo genere Che faceva quella roba Di che quindi Dinamiche Che sono Prettamente legate Al mondo dello spettacolo Erano magari meno Considerati Meno importanti No? Certo Senti allora Io direi che potresti Potremmo Come dire Spezzare questa lunga Chiacchierata Che abbiamo fatto Questo grosso Momento Di Di chiacchiere Abbiamo fatto Facci sentire Un altro Un altro pezzo Adesso Una canzoncina Una canzonella Cioè questa è stata La prima canzone Che ho sentito Con il radio Una mattina mi sveglio Accendo il radio DJ E sento questo pezzo Ma in radio È stata veramente Quelli sono quei flash Che ti ricordi Tutte le vite È strano Lo so che sembra un po' Una sciocchezza Però fa effetto E la canzone Era questa qua Più o meno Adesso per la cena Giusto così La tua stanza è blu Hai la tele accesa Che non guardi Stai sdraiato E pensi Non ti serve Rintracciarmi Per parlare Dai Piatti sborchi Sigarette Quante scuse Quante scuse Che ti fanno male Non ti serve Rintracciarmi È inutile Sono i soliti discorsi Statti e Statti di questo Phares Statti and Tennessee Statti and Luigi Statti andاس Statti andasis Stringimi Il primo singolo, diciamo, quello che annunciava l'album per l'uscita d'estate E era andata bene, era andata bene Quindi, diciamo, andavamo col vento in coppa E poi c'è questa brutta battuta d'arresto di Sanremo Ma perché fu una battuta d'arresto? Ma perché diciamo che la discografia italiana funziona così on off Cioè, se passi Sanremo, ok, se non passi Sanremo e non si avrebbe passato il pubicone è finito Il dado o è tratto o non è tratto Cioè, molto basic da quel punto di vista Certo Cioè, ti dico che c'erano dei discografici che il giorno prima ci salutavano il prossimo Ratteggio dopo, ma anche ci salutavano Non ne cagavano neanche Ma come... Si, effettivamente, diciamo che mi vengono in mente un... Così, velocemente, in base a quello che hai detto Un ricordo, cioè, un... Un brano che dà ragione a quello che dici Nel senso positivo o non nel senso negativo Era stata l'esperienza di... Perché l'ho visto l'altro giorno che per altri motivi... Insomma, la faccio breve I sottotono hanno fatto la stessa cosa Andati a Sanremo Arrivavano da anni di grandissimi successi Sono andati a Sanremo Andato male a Sanremo Spariti... Spariti nel nulla Dopo anni che riempivano le platee E invece i sul Sonic Il contrario Andarono a Sanremo Timbro Via I partiti Quando arrivi a quei livelli Diciamo, per capire le logiche Devi pensare a Marchese del Grillo Sennò non ce la fai Sennò non ce la fai Però invece se la vedi con l'opera di Marchese del Grillo Marchese del Grillo Io sono io E' così Quando arrivi lì Ecco, ma... A qualunque livello Quando poi arrivi proprio a un noccioloturo Lo vedi che è così Però lì è ancora più plateale, lo show Quindi è tutto così E invece com'è che sei arrivato a MTV? Com'è andata l'aggancio con tutto quel periodo televisivo? Allora... In effetti questa è una cosa che mi sono chiesto sempre anch'io Perché non c'è il punto Quanto mistero Ero ancora, diciamo... No, invece io ho un ricordo... No, 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 infatti... Ci stavi dentro, eh Ero venuto a registrare anch'io una puntata, mi ricordo Con la band Una volta che non era potuto venire Ale Ero venuto io Quanta gente ho cordato Gino e Michele Perché la roba bella di Kitchen era che Non c'era lo chef stellato che cucinava Ma c'erano degli ospiti famosi Presi un po' anche dall'underground Non soltanto dei VIP Per cui c'era, che ne so Era venuto qualche calciatore Piuttosto che cantanti Chiunque Era anche figo venire per loro Cioè... Si Diciamo, lì si creavano i modi VIP Si trovavano un po' certi piccoli E quindi come ti sei ritrovato lì dentro Questo meccanismo Ma guarda Succede che praticamente Siccome Quando Quel primo disco Con Sale Che fu Un disco comunque Che venne pubblicato dalla Virgin E ci fu Come dire Un Uno sforzo promozionale All'epoca Facevano la promozione In maniera un po' Quindi facevi, che ne so Il tour radio Andavi una settimana in giro Con sto discografico Per tutta Italia Nelle varie radio A fare le interviste E tra le varie cose che Dovamo fare promozionali A un certo punto All'epoca Cominciavano a fare i programmi di MTV E li mandavano anche in chiaro in Italia Per cui c'era Silvestrin Io infatti li guardavo Pensavo Però Non parlo inglese Poi figure E quindi Mi ricordo di questa roba Se non che Tra i vari programmi che facevano Ce n'era anche uno Che faceva Andre Pezzi Che si chiamava Hot Che era un programma Non so se qualcuno se lo ricorda Era molto semplice C'era praticamente una camera fissa Però tipo fisheye Quindi che faceva Un po' la cosa deformata E lo sfondo era tutto bianco E lui giocava un po' come Funari Si avvicinava E si allontanava da sta camera E con gli ospiti Giocavamo con sta Insomma con sta Si chiamava con il sfondo infinito praticamente Questo bianco potevi andare Ed era nella sua semplicità Comunque un programma E lui faceva già tutte queste facce Era Jim Carrey Era già il personaggio Perché faceva già la due DJ Noi dovevamo andare lì A fare una comparsata Come nuova band Come ospiti a Hot E lo registravano Negli studi di Londra A Camden Town Quindi Per noi era già una figata Figura di aereo pagato Albergo Che dipendono Cioè eravamo proprio Non in giunta scolastica Di più Sì 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 Molto di più Al settimana Poi con la band Manco solista Non sembrava manco un lavoro Era proprio una gita Quindi con la band Allora arriviamo in questi studi Tu immagini Come per arrivare Cioè proprio un appassionato di cioccolato Che era la Willy Wonka Cioè proprio La fabbrica del cioccolato E Conosciamo Insomma Cominciamo a conoscere Gli autori Tutto quanto Becchiamo anche Andrea Pezzi E sentiamo che nel frattempo Sta discutendo Con un inglese Sennò che questa discussione Diventa sempre più animata Insomma a un certo punto Si stanno quasi mettendo Le mani addosso Quindi c'è questo diverbio Per cui Salta la registrazione In quel giorno lì Perché insomma Andrea Pezzi Si incazza con questi inglesi Si meno E quindi Diciamo La cosa Di per lì A noi è sembrata anche Diciamo Più che un problema È stato un vantaggio Perché l'unico problema È stato che la casa discografica Ci ha preso un'altra notte in albergo Un'altra cena pagata Cioè Diciamo che figata Proseguì alla gita Insomma andava avanti Per dire cosa Che a quel punto però In questa cena Che più facevamo Siccome Andrea Pezzi Si aveva sentito un po' la merda Che ci aveva fatto cancellare la roba Era venuto a cena con noi Quella sera E quindi ci siamo conosciuti così a cena E insomma ci siamo trovati Subito Abbastanza bene E lui insomma mi disse Guarda io poi a settembre Dovrei fare una roba in Italia Che è un programma Talk show Insomma mi invitò a questo programma Dove c'era anche il non giovane Che era Qui c'era anche Morgan Si 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 Che era Sempre su MTV Era le prime produzioni che facevano MTV da MTV Italia Ok ok E quindi erano le prime registrazioni che si facevano qua in Italia Siccome Andrea Pezzi praticamente Io adesso Non so Per chi interessasse Diciamo Diciamo Il campo dall'orto e qua Però era lui Si 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 E quindi quando cominciarono queste robe qua Io cominciai a fare questo programma E poi subito dopo gli venne in mente l'idea di fare questa roba di Kitchen E quindi io nel giro di non so come Cioè praticamente con niente mi ritrovai a fare una stagione E poi un programma che abbia successo Si 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 A livello pop sicuramente Ma era una roba incredibile Io ero Giravo per strada Ti fermavo Ti dicevano Poi poi andava anche in Repica Un programma che andò molto bene Poi da Pezzi all'epoca era Cioè Un astarto Si 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 è vero Cioè da adesso sembrano Sembrano basso Però veramente avevano fatto delle versioni So Don Ciccabana Tutti così Oppure Moses Pendleton Il diavolo di Momix E' una delle robe assurde Si 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 Ma lì che erano venuti ospiti Perché praticamente Chiunque transitasse a Milano Diciamo un po' Perché Se veniva il tizio Se veniva l'attore Se veniva Che ne so anche scrittori Era venuto Quello di Clemorama Bertiston Ellis Bertiston Ellis Cioè quindi A seconda Oppure passavano E quindi noi poi li intervistavamo lì Figura di parola inglese Super basic Si che dopo un po' Divenne talmente cool Quella situazione Perché non c'erano ancora i social Era un problema Era una tv nuova Fresca di musica Per cui diventava figo Essere anche ospiti Cioè quindi immagino che Non facessero nessun problema A dirvi di si Ok vengo Perché penso fosse figo No 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 C'è una fiera C'è una fiera per me Infatti Esatto Era una fiera Fu diciamo La mia Golden Age Ecco Nel 2000 Più o meno Era stata la Golden Age Che si concluse poi Cioè Casa era il disco Si è stata in mezzo E poi si è conclusa con Black Moket In effetti C'è il disco invece con Morgan Con il disco con Morgan Con il disco con Morgan Si si Allora di quel disco lì ricordo che Tu stavi preparando quel disco E già cominciavi a frequentare di passato in studio un po' di volte con Cato Perché Cato faceva la Era nella band Perché io poi anche ci portavo tutti i musicisti in Torino E io stavo Noi ci eravamo appena conosciuti così Io stavo ascoltando uno dei miei dischi di Funky Soul Delle robe mie Dei neri americani così E c'era un pezzo di Stavo ascoltando un pezzo di Roy Ayers Che è un vibrafonista americano E tu sentisti quel pezzo di Ma scusa ma ti dispiacerebbe Ti dispiace se posso E poi Dopo Ti faccio sentire L'originale L'originale Anzi ve lo faccio sentire adesso Fallo sentire No così Si faceva così Una cosa eccezionale Si fa Si fa Normalmente All'epoca si campionava Tu eri venuto Avevi Aspetta che Dovrei averli qua Avevi sentito Me Io metto gli occhiali Sembro geppetto Abbiate pazienza Anziché intaccare il ciocco di legno Metto La canzone Allora vediamo Io stavo ascoltando questo Ok Poi Lui mi disse Ma ti dispiace se prendo questo pezzo Perché insomma Non ci conoscevamo Ehm E' fighissimo Ero lì così Cioè non è roba mia Lo stavo ascoltando Si può campionare Adesso però no Si può Si può Poi non seppi più nulla Perché non era ancora il periodo Che vivevamo insieme Falla sentire uguale Poi usci il disco Io ho mesi Forse un anno dopo Così Certo Adesso mi ricordo Comunque è fighissimo Adesso lo fanno tutti Sta roba No no ma adesso ti ricordo Perché in effetti Cioè quella roba lì Con quel campione Ho scritto il pezzo E poi c'era Morgan Che girava sta roba lì Poi quando l'abbiamo fatto Quando poi Mi sono arrivato con i provvediti de Morgan Gli ho fatto sentire No questo è un campionato E su quella roba lì Poi l'abbiamo risuonato Col clavinet Gli hai fatto quella roba lì No 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 Mi ricordo Ti sa se lo Lo avrà mai usato Pensavo nei mesi successivi No no Ci ho fatto un singolo proprio E' un pezzone E' bello Beh ma io si si Sulla musica nera Lo sai che anzi Poi è stato un piacere per me Avere passato tutti Insomma questi anni In questa specie di comune Che avevamo in studio Con Luciano Con Cato Perché per me è stata Una maniera di scoprire La musica nera La musica anche il reggae La musica quindi giamaicana Perché Luciano è un grandissimo appassionato E' un grandissimo conoscitore Quindi insomma sono fortunati Sei tu l'ospite No 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 Volevo fare questa cosa Combinazione c'eri tu e Insomma Mi è venuta in mente questa cosa Era bellissimo quel periodo Perché c'era proprio questo ascolto Beh ci siamo mescolati E io ricordo anche di aver ascoltato Tanta musica grazie a te che non conoscevo No no ma infatti Sono cose che bisognerebbe continuare a fare Poi mi ricordo che Parlavamo tantissimo di cinema Questo me lo ricordo Beh Io posso dire Esatto Tornando a casa Che magari ecco Diamo qualche Perché poi le canzoni viste così Però per dire Ci sono almeno Due o tre pezzi Che sono proprio ispirati Noi eravamo in pista col cinema Che adesso Sogni d'oro era un po' un tributo Al film di Daniele Moretti Sogni d'oro Ah si E certo All'epoca Poi dopo ho cambiato idea Però per me all'epoca Era abbastanza un mito No no aspetta Io Quei film lì Per me Quei film lì Mi piacciono sempre No sono quelli dopo Mi piacciono meno Quei film dopo No Sogni d'oro Bellissimo Infatti era Come dire Anche se vuoi una citazione Di quel film lì Ma anche la moglie del soldato Era un film che era uscito In quel periodo Dico Quella storia del travestito Certo Che ci sembrava una cosa Diciamo Quindi il cinema è sempre stato Molto presente nell'immagine Tendenzialmente Io mi sarei laureato in storia In storia del cinema Però poi Evidentemente è una cosa Abbastanza che ho fatto pure dopo Però si Era chiaramente una Anche Che ne so Pezzi Quando prima di addormentarmi Avevo in mente Tarantino Quelle situazioni lì Certo Spesso E anche Cioè Così come il cinema Trende tanto dalla musica Anche la musica Trende tanto dal cinema Cioè Spesso in sala prova Quando sei lì con la band Immagini Come se fosse un film Mentre stai suonando una roba È chiaro È una delle Non per nulla Mi collego Mi collego velocemente A quello che stai dicendo Il nome di questo nostro Grande progetto Che è appena iniziato Che porteremo avanti tutto l'anno Ci è venuto in mente Ci abbiamo ragionato Ci abbiamo ragionato Ci è venuto fuori Ci sembrava la sigla più giusta Il nome più giusto Che è Host Si chiama Host Perché sarebbe Original Soundtrack Cioè la colonna sonora Devi prenderla Immagini e musica Sono sempre influenzati È una delle caratteristiche Si Non mi ricordo Perché mi ricordo Di queste chiacchierate grandi Sul Cino Su Carmelo Bene Su cose anche complicate Mi ricordo Certo Diciamo che Per entrare proprio così In confidenza Diciamo I presupposti Tutti abbastanza Che ne so Tutto quello che vedi come finzione È la realtà Tutta la realtà è la finzione Cioè parti già da concetti Un po' così ambigui Allora a quel punto Ti muovi con più Agilità Nei tipi di speculazioni Che facciamo Però devo dire Sono le cose che poi Mi piace anche di più Trovare nelle canzoni Nella musica Cioè questo tipo di Come dire Sovrapposizioni Possibilità Di sdoppiamento Si Di solito anzi Le robe che mi piacciono di più Hanno proprio questa Certo Poi dopo ho scoperto anche Sui Beatles Che sono proprio delle cose costruite ad hoc Ma secondo me Quello sarebbe tutto un altro discorso Magari preferiamo fare Tu sei un grande fan Tra l'altro Eh ma un grande fan Ma anche Cioè Si Mi ricordo Io sono un adepto Nel senso che io sono Ho capito dopo di essere stato Programmato mentalmente Con questo catechismo Che erano in realtà i Beatles Certo Quindi poi di conseguenza Sono andato avanti Facendo un po' come dire Il profeta di una religione che non conoscevo in realtà Cioè Quindi ti faccio Allora facciamo così Ti faccio due domande Così bruciapelo Poi ci fai un terzo pezzo Ce lo fai E voglia E chiudiamo E chiudiamo con E chiudiamo con Con l'ultimo tuo brano E le domande sono Se non avessimo scelto di fare Di celebrare il 25ennale del tuo disco E avessi dovuto portare un disco Che ti ha cambiato la vita Nella tua adolescenza In un momento particolare della tua vita fondamentale Non tuo Che cosa avresti Magari la prossima volta che vieni E devi portare un disco non tuo E ti ospiteremo Che cosa Chi porteresti Visto che vi hai citato una fonte tua di grande ispirazione Ma io guarda Io porterei Cioè Mi rendo conto che Cioè Ci sono di diverse cose Come dire come capisalti Però se dovessi portare un disco Anche se non è italiano Però lo porterei Lenny Kravitz Ma è Mamaset Insomma quello Che disco non è bellissimo Perché praticamente Non lo sapevo Non mi aspettavo questa risposta Ma ti dico anche perché Bellissimo Stupendo Ma poi secondo me Lenny Kravitz Questa cosa Insomma L'ho condivisa anche con Morgan Diciamolo Quindi la certificata Cioè Lenny Kravitz è stato il primo Almeno che io Ricordi Ad aver proprio preso L'idea del vintage Nella musica Cioè l'idea di fare una cosa Negli anni 90 Che suonasse però praticamente Come fosse il 71 Era 70 Sì Primi 70 Primi 70 Adesso non so Tutti i miei Però era una roba Quindi anche a livello di registrazione Che ne so C'erano delle cose in dual mono C'erano chitarre che suonavano solo sulla cassa sinistra C'erano delle situazioni Avevano solo rock di quel periodo lì Io l'ho visto anche dal vivo L'ho visto proprio in quella tournée lì a Rolling Stone Ed era una cosa che aveva lasciato E' sempre stato per me un riferimento a livello musicale Perché è stato secondo me il primo a A viversi questa fase Come possiamo chiamarla Post moderna Dove ti volevi rifare A qualcosa che era già stato fatto Mentre comunque questa tecnologia proseguiva Sì sì Che poi in quel periodo lì la tecnologia proseguiva Ma di fatto campionava comunque le cose vecchie Quindi in un modo o nell'altro Sì Le reference vengono sempre fuori Insomma Però Poi Poi I miei riferimenti Come hai detto prima Sono le seconde bit C'erano Per quanto riguarda la musica italiana Certo So che tu ami molto C'erano C'erano Sì sì Bah sì perché E' stato proprio Anche lui Ma tu non è che ci faresti un petto Un petto di C'erano C'erano Tipo storia d'amore la sei fare? Adesso non la ricordo tutta Se ti fai storia d'amore ti Se ti fai storia d'amore Storia d'amore la posso anche fare Dai un pezzo Scusate è una roba mia Mi piace quel pezzo Io non lo amo particolarmente Ma quel pezzo sì Tantissimo Sì eh Non ti piace Mi piace il casino Io adoro quel pezzo Allora attenzione questo è un pezzo Un po' così un po' più ritmico fa Tu non sai cosa ho fatto quel giorno Quando io la incontrai In spiaggia ho fatto il bagliaccio Per mettermi in mostra agli occhi di lei Che scherzava con tutti i ragazzi Alli fuori di me Perché 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 Io le piacevo Lei mi amava Mi odiava Mi amava Mi odiava Mi odiava Era contro di me Io non ero ancora il suo Ragazzo già soffriva per me E per farmi gelosia Quella notte lungo il mare È venuta con te Ora tu vieni a chiedere a me Tua moglie dov'è Dovevi immaginarlo Che un giorno o l'altro Sarebbe andata via da te L'hai sposata sapendo che lei Sapendo che lei Moriva per me Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo Non certo il suo cuore Lei mi amava Mi odiava Mi odiava Mi odiava Era contro di me Se non ero stato il suo ragazzo Era contro di lei E' un schiaffo all'improvviso Era un schiaffo all'improvviso La Morraise E' solo biazza E' così poi Un giorno E' uno psicodrama lunghissimo E' una terza parte E' quella più piccante però Perché un giorno io vi direi, entra nella mia stanza Mi guardava, silenziosa, aspettavansi da me E poi io mi alzai e tu te la guardai Sembrava un angelo Mi stringeva sul suo corpo Non mi donava la sua bocca Non mi diceva solo un fuga Ma di pietà l'onestà C'è tutta una fisa armoniana Avanti, lo sia, avanti, lo sia Una parte di fisa armonica Grazie a te, ti voglio bene Grazie a te, è stato veramente carino Ma tu lo sai che io mi sono laureato su Celentano Ma io lo so, è quello che te l'ho chiesto Io non li ho mai visti Non mi sarei mai permesso Io mi sono anche imbarcato in un'operazione Che doveva portarci in Russia a suonare le canzoni di Celentano E poi come al solito Con Eddie De Guvertico Ma questa è un'altra storia Ci facciamo una puntata a parte Sì, sì, è una po' sulla gente incredibile Grazie Mau, grazie mille Allora, ti faccio l'ultima domanda Poi se ci vuoi fare ancora un pezzo tuo Ce lo fai Se no sei senza voce E mi hai detto che non stavi bene Lui non l'ha detto Però allora, facciamo così Dimmi qual è il cantante tuo preferito oggi Che non sia un cantante della nostra età O comunque il tuo artista preferito Tra i venti, massimo trentenne Come cantante nel senso di come No, come cantante No, vabbè, fammelo dire Come cantante diciamo Proprio come tecnica Come timbro Come capacità di cantare Come piacere anche di averci cantato una volta insieme Patrick Beniferi Ma veramente Io divento pazzo quando canto con lui Perché secondo me lui È un grandissimo Proprio qua Ho avuto il piacere di fare delle volte Insomma, delle cose con lui Mi hanno fatto cantare anche delle cose di Mina Ma tra questi giovani Che diciamo che Che stanno spopolando No, Patrick è bravissimo Io lo so Lo so perfettamente No, uscendo diciamo Dalla cosa un po' tecnica del cantante Gli artisti nuovi Di quelli che Anche qua di Torino Che trovo che siamo di Cioè, ovviamente Che ha fatto delle cose strepitose A me, Andrea Lasmo De Simone Trovo che sia Veramente Una roba Molto brava Cioè Di altissimo livello E' anzi Mi piacere anche Forse che anche Abita in questo quartiere È un San Donatese Allora, vedi che Allora, vedi che Allora, vedi che Vedi, lei ha inzzeccavano Quella sua partita di Alla L'ha inzzeccavano C'è la Il campanilismo È uscito da pochissimo Ho visto anche Tra l'altro Dove il video L'ha fatto anche Enrico Bisi Saluto Che lavorava con noi a corto corto E devo dire anche Riportato indietro di un po' di anni No, no, grazie Di quando convivevamo E Mi siete stato Veramente Un'oretta Passata Tra amici Ti ringrazio molto Grazie Ringrazio molto voi Per la vostra attenzione E gli farei un ultimo Grande applauso a Mai Per la sua disponibilità